Cari sordi italiani, desidero darvi una serie di informazioni su quello che è stato il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo fino a questo momento. Non è stato certamente semplice, al contrario, è stato complicato, arduo. Nonostante questo, il Consiglio Direttivo è sempre stato mosso da uno spirito di conquista per raggiungere dei risultati che potessero essere utili all'ENS e di conseguenza a tutte le persone sordi italiane. Vorrei condividere con voi una serie di importanti informazioni istituzionali. Nell'ambito della conversione in legge del Decreto Mille Proroghe è stato approvato in via definitiva un emendamento presentato dall'ENS al Ministero della Disabilità. Il testo è il frutto della collaborazione con le associazioni di interpreti e un comitato appositamente costituito per giungere alla redazione di un testo unico concernente la figura professionale dell'interprete di lingua dei segni italiana. Il precedente testo prevedeva come termine ultimo per l'iscrizione alle associazioni di categoria il mese di ottobre 2022, da parte di coloro che avevano appena conseguito l'attestato o di coloro che stavano terminando il percorso formativo. Il termine riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete LIS è stato prorogato al 31 gennaio 2025, offrendo in tal modo la possibilità di iscriversi alle associazioni di categoria anche ai neointerpreti. Ci si è posto il problema circa la validità o meno dei diversi corsi per interpreti organizzati dalle sezioni ENS. Per questo desidero ringraziare le sezioni territoriali che hanno segnalato alla sede centrale le loro preoccupazioni e perplessità relative al futuro dei corsisti. Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni anche da parte degli studenti, per questo è stata proposta una proroga al 2025 che è stata approvata dal Parlamento. Abbiamo accolto questa notizia con grande soddisfazione perché ciò conferisce validità a tutti i corsi per interpreti LIS organizzati a livello territoriale. In questo modo è stato possibile tutelare sia la validità dei corsi per interpreti LIS sia coloro che conseguiranno il titolo di interpreti e che potranno iscriversi alle associazioni di categoria riconosciute ai sensi della legge 4 del 2013, il cui elenco è fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE. Ribadisco che abbiamo accolto questo traguardo con grande soddisfazione, che è stato possibile anche grazie all'attenzione che il Ministero della Disabilità ha rivolto all'ENS, comprendendo quelle che fossero le criticità del precedente testo. Volevo informarvi inoltre della recente partecipazione al primo incontro dell'Osservatorio Nazionale sulla Disabilità, al quale, oltre all'ENS, hanno preso parte numerose associazioni e delegati e funzionari dei vari dicasteri, con l'intento di creare una rete di collaborazioni perché è importante che non solo il Ministero della Disabilità ma anche i rappresentanti degli altri Ministeri siano a conoscenza delle esigenze delle persone con disabilità e dei loro diritti, sempre nel rispetto di quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. È stato illustrato il nuovo regolamento dell'Osservatorio Nazionale sulla Disabilità, il cui acronimo è OND. Il nuovo regolamento presenta delle significative novità rispetto a quello dello scorso anno. Per lungo tempo i lavori dell'Osservatorio hanno subito una battuta d'arresto che ha generato il malcontento delle associazioni. Per questo il Governo insediatosi di recente si è messo subito al lavoro ed è stato organizzato il primo incontro. Precedentemente l'Osservatorio era composto da 13 gruppi di lavoro. Attualmente con il nuovo regolamento il numero dei gruppi di lavoro è stato ridotto a 5 ed è stato previsto anche un limite massimo del numero di componenti che ne fanno parte. Pertanto non sarà più possibile partecipare a tutti i gruppi di lavoro. Questo ha destato non poca preoccupazione da parte nostra dal momento che l'ENS vorrebbe prendere parte a tutti i gruppi per manifestare quelle che sono le esigenze delle persone sorde. Tra il mese di maggio e il mese di giugno prossimi saremo nuovamente convocati per stabilire a quale gruppo di lavoro prendere parte. Certamente maggiore attenzione sarà rivolta a quelli che si occupano di istruzione, sanità e lavoro con riferimento alla legge 68 del 1999. Gli altri temi saranno accorpati secondo quanto verrà disposto dalla Corte dei Conti. Ciò comporterà una riorganizzazione anche sulla base di quelle che sono le limitazioni previste dal nuovo regolamento. Le 20 associazioni non possono prendere parte a tutti i gruppi di lavoro. Il Ministero della Disabilità ha ribadito più volte di voler apportare delle modifiche alla legge 68 del 1999 ed è importante che l'ENS faccia parte di questo processo. Quale gruppo di lavoro scegliere dunque? Non è semplice ma aspettiamo quanto verrà stabilito dal nuovo regolamento che verrà approvato tra il mese di maggio e il mese di giugno prossimi. Seguiremo la faccenda. Nei giorni scorsi si è tenuto anche un incontro con il MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, quello che una volta era il MIUR. Adesso non è più accorpato al Ministero dell'Università e della Ricerca. L'incontro ha avuto come scopo il confronto con le altre associazioni relativamente alle nuove assunzioni degli insegnanti di sostegno che troppo spesso mostrano di non avere una formazione, un approccio e metodi adeguati per affiancare studenti con disabilità creando delle enormi difficoltà. Inoltre i docenti di sostegno cambiano ogni anno non garantendo continuità nei percorsi formativi. L'insegnante di sostegno dovrebbe essere lo stesso per ogni ciclo di istruzione e non cambiare continuamente perché questo costante turnover genera delle notevoli difficoltà negli studenti disabili allo stesso modo di quanto avviene agli studenti sordi. L'ENS ha chiesto con forza la convocazione urgente di un tavolo tecnico con lo scopo di discutere sulla formazione specialistica nell'ambito della disabilità, tenendo conto di quelle che sono le esigenze e le peculiarità di ciascuna disabilità. Fino a questo momento i percorsi di studio per la formazione dei docenti di sostegno hanno previsto un numero irrisorio di ore di formazione specialistica nell'ambito della solidità. Non è possibile. Questo non abilita certamente un docente di sostegno. È il metodo ad essere errato. Per questa ragione abbiamo richiesto un aggiornamento dei programmi previsti nel TFA, nell'ambito della formazione universitaria. Questa è una delle proposte avanzate da Lens, che chiede inoltre di riconoscere la figura degli assistenti alla comunicazione, internalizzandoli nel personale scolastico. Anche quest'ultimo aspetto non è semplice. Lens sta già lavorando al disegno di legge 236 con lo scopo di presentare alcuni emendamenti al testo licenziato sulla base di indicazioni fornite da parte di un'altra associazione. Quello che Lens richiede è che venga fatta una distinzione tra le figure professionali che si occupano delle diverse tipologie di disabilità sensoriali, fisiche e intellettive. Naturalmente il disegno di legge e il medesimo verrebbe solo ampliato. Il comitato tecnico del Lens sta lavorando agli emendamenti da presentare. Siamo in attesa di essere convocati dal Parlamento all'audizione della settima commissione istruzione. Lens è pronto a presentare le proprie stanze. La strada da percorrere sarà sicuramente lunga. Seguiremo tutto l'iter. Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto. La sede centrale sta attraversando un periodo di forti difficoltà. Due dipendenti sono assenti per ragioni di salute. Nonostante questo si è instaurato un ottimo rapporto con il nuovo segretario amministrativo che ha da subito compreso quelle che sono le esigenze per la gestione dei vari uffici. Si sono tenute numerose riunioni con il personale con l'intento di organizzare al meglio il funzionamento degli uffici della sede centrale. Per la prima volta tutto il lavoro è centralizzato a Roma. Personalmente seguo sempre quanto accade in un'ottica di miglioramento dell'amministrazione degli uffici. Ho riposto grande fiducia in questo. I comitati della sede centrale proseguono con le loro attività, in particolare quelli che sono coinvolti nell'organizzazione dei prossimi eventi in programma. Tra questi il quinto anniversario CONAST che si terrà a Siena, per la cui organizzazione desidero ringraziare il Consiglio regionale ENSTOSCANA. Il CONAST rappresenta per le famiglie un punto di riferimento importante per la gestione dei figli che affrontano molteplici difficoltà nella vita quotidiana e delle loro esigenze. Sono già stati attivati i cicli di seminari CONAST che si tengono una volta al mese. È in programma, inoltre, la prima vacanza studio per la terza età, che rappresenta un'importante occasione che mi aggrada, organizzata a Monopoli, con la collaborazione del Consiglio regionale ENSTOSCANA. Finalmente siamo riusciti ad organizzare un evento di tale portata. Spero che le persone anziane parteciperanno numerose. Ci tengo. Rappresentano il pilastro dell'ENS. È un'esperienza di immenso valore. Desidero ulteriormente informarvi che il prossimo 2 aprile, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, sono stati organizzati eventi in due differenti città italiane, a Bologna, con la collaborazione del Consiglio regionale ENS Emilia Romagna e della sezione provinciale ENS di Bologna, e a Roma, con la collaborazione del Consiglio regionale ENS Lazio e della sezione provinciale ENS di Roma. È importante che l'ENS sia presente, perché rappresenta un'ottima occasione di visibilità. Ci sono alcune persone sorde che vivono anche in condizioni di autismo. Pertanto è importante portare alla luce quelle che sono le loro esigenze. È stato istituito anche il comitato ENS-FSI, in vista dell'organizzazione delle celebrazioni, che si terranno il prossimo anno, per il centesimo anniversario del movimento sportivo sordi italiani, fondato nel 1924. Verranno organizzati una serie di eventi per ricordare i cento anni di attività sportiva. Verrà stilato anche un protocollo d'intesa con la FSI. Siamo all'interno di un'unica casa. Il 20 e il 21 maggio prossimi verranno organizzate a Trieste due giornate nel nome di Vittorio Ieralla, in collaborazione con il Consiglio regionale ENS-Friuli-Venezia-Giulia. Quello esposto finora è il lavoro che stiamo portando avanti nell'interesse dell'ENS. Un'ultima riflessione che vorrei condividere con voi è che, a causa dei tempi lunghi, della burocrazia, dei silenzi. Sembra che il lavoro si fermi, non vada avanti. In realtà non è così. Il motore è sempre in funzione, ma i tempi sono duri. Anche per me non è un periodo facile. Chiedo scusa a tutti voi se sono stato assente. In realtà non è che non voglia produrre dei videocomunicati. Al contrario, ma la mole di lavoro da svolgere è enorme. Sono certo, però, che continueremo a lavorare in questa direzione. Ripeto che mi impegnerò per organizzare al meglio i miei tempi, per poter divulgare periodicamente dei videocomunicati. Tutti noi abbiamo dei momenti giusti, dei momenti sbagliati. Attraversiamo periodi alti e periodi bassi. Ognuno di noi ha le proprie vite, con i propri tempi limitati, ma il nostro impegno resterà costante per migliorare sempre di più. È tutto qui. Grazie per l'attenzione. Colgo l'occasione per augurarvi buona Domenica delle Palme e buona Pasqua. Vi abbraccio tutti.